L'azienda sanitaria provinciale di Crotone comunica l'informativa circa gli orari e le sedi ambulatoriali per l'effettuazione dei test sierologici per il personale della scuola. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Crotone informa che dal 7 settembre saranno attivati gli ambulatori che effettueranno i test sierologici per tutto il personale della scuola di tutto il territorio provinciale di competenza dell'Asp. Il distretto di Crotone presso l'ambulatorio sito in via Saffo 37 da lunedì 7 al venerdì 11 settembre dalle 10 alle 12. Per il distretto di Ciro Marina presso il Saub ufficio vaccinazioni da lunedì 7 dalle ore 15 alle 19, martedì 8 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il distretto di Mesoracca presso il servizio vaccinazioni mercoledì 9 settembre dalle 15 alle 17 e mercoledì 16 settembre dalle 15 alle 17. Cotronei presso il Saub servizio vaccinazioni martedì 8 settembre dalle 9 alle 12 e giovedì 10 settembre dalle 9 alle 12.